Buonasera signori, buonasera Tra l'altro ho visto il video di DatoBox No, non l'ho visto Ho visto che ha fatto il video DatoBox su God of War e l'ha chiamato Non siete pronti per quanto è bello God of War Ragnarok Perché deve sempre esagerare? Vediamo i commenti, vediamo i commenti Allora, 13 minuti di banalità Vabbè, però dai, sei cattivo Vediamo, vediamo, vediamo Ma lui non si definisce critico, eh I voi villains Attenzione, attenzione Vabbè, dai, non ci sono brutti commenti, dai Ah, ecco, questo qua gli dice Tu non sei pronto per fare sport Vabbè Gioco della generazione, non esageriamo C'è là fuori un certo Red Dead Redemption 2 Che li mette tutti in riga Non come semplice gioco, ma come opera d'arte Che traccia un solco tra il mero gioco e qualcosa di ben più profondo Vediamo che gli rispondono Magari giocarlo prima In effetti sarebbe E chi sei tu per dire che non siamo pronti Ma non vi vergognate voi che avete i giochi gratis Fate pena Grande Datopax Ti seguivo da quando recensivi gli Holyfans Un buon gustai Vabbè, dai, tutto sommato non sono male i commenti Pensavo lo aggredissero di più Ah, attenzione A sentire Sabaku il finale lo ha deluso Mentre a sentire i player inside Attenzione, attenzione Ci sono delle cose nella trama un po' buttate lì Dicono che piacerà sicuramente Ma che a livello di trama vero e proprio Meglio quello del 2018 Va bene Tutto sommato Diciamo che ha scritto una cosa Bastanza corretta Non lo so neanche quanto effettivamente Sia meglio quello del 2018 Semplicemente io ho analizzato questa trama Senza paragonarla a quella del 2018 A me dispiace abbiano dovuto condensare Tutto in un unico capitolo finale Forse per quello che a molti recensori Ha dato la sensazione di prettolosità In alcune caratterizzazioni Che è quello che ho detto anche in recensione Può darsi che la motivazione sia stata questa Diciamo che in God of War Ragnarok Ci sono tanti personaggi Più di God of War del 2018 E questo ha portato anche a una trattazione Delle singole sequenze Con ognuno di questi personaggi Un po' più Sbrigativa In alcuni contesti Io non so fino a che punto Molti di voi lo considereranno Un reale difetto Perché secondo me ripeto Piacerà indipendentemente da queste considerazioni Ma secondo me Alla fine piacerà tantissimi di voi Ragazzi Vi piacerà tantissimo E ve ne fotterete Di questi discorsi qua Perché secondo me Proprio sulla trama L'importante è che funzioni Ecco Di funzionare funziona Se si fanno discussioni Sul perché A un gioco che era tanto atteso Si è messo 9 e non 10 O 10 e non 9 9 e non 9 e mezzo 9 e mezzo E non 9,6 Ragazzi Sono discussioni che non hanno senso E sono di una pochezza straordinaria Soprattutto perché provengono Da commenti di gente Che non l'ha proprio Neanche visto il gioco C'è 0 E quindi perché avresti voluto Sì però A questo avete messo Totti Lasciate perdere Nel senso Considerate questo gioco Per quello che è Non si può discutere Dei voti Non avendolo giocato Ho visto un articolo Se non sbaglio Di multiplayer Dove dice che Phil Spencer dovrebbe inserire giochi Come God of War Su Game Pass Se vuole vendere più Game Pass Un po' basato Direi no Beh bisogna capirlo Però quell'articolo È di Tagliaferri Allora È una provocazione Però è per dire Alla fine Quello che ti fa vendere Un servizio o una console Sono i Colossal I giochi I gioconi Che tutti attendono Tipo God of War God of War è soltanto un esempio Per dire Oh Cevanno più giochi Di questo tipo Per far smuovere Xbox Per far smuovere il Game Pass Però è anche vero Che bisogna dare un attimino Un po' di tempo Al Game Pass A Xbox Perché le produzioni interessanti Secondo me Cominceranno dal 2023 Quelle forti Da partire da Starfield E poi in avanti Quelle che ci saranno Per cui c'è il rischio Che per certi versi Microsoft con Xbox Possa fare anche la Sony Della situazione Con queste produzioni grosse Che possano smuovere Semplicemente è questione Di dargli un po' di tempo Cioè Phil Spencer Secondo me lo sa Non è che non lo sa E diamogli il tempo Perché sta comprando A destra e a manca E prima o poi Sti titoli grossi In esclusiva li fa Ecco I titoli di Sony Sono più pop Sono più Per tutti Invece Se tu vai a prendere Diversi titoli Di Microsoft In realtà Sono pure dei colossal Potenzialmente Ma in realtà Soprattutto in Italia Sono visti come titoli Più di Di nicchia Un Halo Infinite È un po' Lo Star Wars Della situazione Però Non piace a tanti In Italia Halo Infinite Viene molto dopo Tantissime produzioni Sony Anche quelle che meriterebbero Meno di Halo Infinite Di no Halo Infinite Halo in generale Secondo te queste incertezze Narrative No non parlate di incertezze Narrative Incertezze narrative Sarebbero buchi di trama E cose che non funzionano In God of War Ragnarok Funziona tutto Sono state Dettate dal cambio Di direzione artistica Lo senti un po' Il rimpianto E averlo voluto Veder diretto da Barlog Il fatto è che Barlog È proprio il Creative Director Quindi è il direttore Creativo Eric Williams È il director totale Un po' si sente Un po' si sente Infatti in realtà L'avevo scritto Nella mia recensione Poi però l'ho tolta Dal video Ah qua Ah no Invece poi l'ho messa Nella Nella Nel video Cioè io ho scritto Ho detto A più riprese Si accuse il colpo Di una nuova direzione Che ha fondato Stavolta moltissimo Sul rapporto interpersonale Tra le figure Quei coinvolte Mostrando fin troppo spesso Il loro fianco Le loro debolezze E disinnescando In tempi eccessivamente rapidi Rapporti di forza E attenzione tra loro Dando priorità Alle difficoltà emotive Contratti che rischiano Di sfociare nel patetico Quindi sì Lo scritto Che è anche per meriti O demeriti Della nuova direzione Ma non è detto Che sia questo Questa è una mia ipotesi È un'ipotesi Si conosce il motivo Di questo cambio Non capisco perché Non lasciarci Barlog Lui se n'è andato Perché ragazzi Si esaurisce A dirigere due giochi Nel giro di quattro anni Si esaurisce Si esce proprio di testa Barlog ha detto Basta Non lo posso fare io Ma mi stanco Sono loro che decido Così come David Jaffe Ha fatto il director Del primo Il secondo Non ricordo Il terzo L'ha fatto un altro Sempre hanno cambiato Più o meno Ogni episodio ha avuto Il suo director Voi che pensate Che se fosse stato Personi Non gli avrebbero Mantenuto Lo stesso director Che ha fatto Quel successo Che ha avuto Con God of War Del 2018 Certo L'avrebbero mantenuto Per loro Figuriamoci Quindi non vi dovete Stupire di questo Cambio di director È una cosa Che a Santa Monica Fanno spesso E addirittura Hanno demandato La realizzazione Dei due episodi Per PSP Che secondo me Sono molto belli Soprattutto Science of Olympus Ha uno studio terzo Ready at Dawn Che poi si è perso Per strada Ultimamente Si sono persi Nei cambi che contavano Questo voglio dire Perché prima Erano uno dei team Che secondo me Se si insisteva un po' Potevano essere Anche first Second party Di Sony Cioè Invece sono usciti Dai radar di Sony Allora Sto notando Che ultimamente Microsoft Sta diventando Sempre più Comprensiva Con i team Li fa lavorare bene E parleremo Di questa cosa Perché Voglio fare tutto Un discorso Ma Devo dire Che Questo vi anticipo Microsoft Sta facendo lavorare I suoi team In una maniera Più sana Secondo me Perché Sony li sta mettendo Un po' alla prova Un po' in maniera Troppo In out Non ci dobbiamo dimenticare Che cosa è successo Con Days Gone Il gioco non ha preso I voti Che si sarebbero aspettati In Sony E non ci sarà un sequel E addirittura Di Ben Studios Non ne vogliono sapere Più nulla Non è che sia un team Di merda Ben Studio L'hanno fatto Il loro Però Insomma Li hanno messi Alla porta Per un qualcosa Che tutto sommato Era Buono Days Gone Ma che non ha convinto Al 100% Quindi con Sony Adesso le aspettative Sono altissime Microsoft Dal canto suo Invece Sta concedendo Licenza A team Buoni O promettenti O ottimi Di fare anche cose Più sperimentali Vorrei ricordarvi Che questo mese Esce un certo Pentiment Di Obsidian Che se l'è tirato Fuori dal cilindro Che non è una produzione L'hanno fatto Tra una cosa e l'altra Non era messo nel conto Sony ste cose Non le farebbe fare Direbbe Sì ma quanto mi fai vendere E cazzo Non so quanto ti faccio vendere Boh Non lo so 200.000 copie No Te piscio Per la serie Sony Anche se fai dei sgon C'è il rischio Che ti butta fuori Appetate nel culo Microsoft Ti permette Di fare anche un pen Sentiment Così Anche perché Sony Vende di più Secondo me Microsoft deve essere Più elastica E no Perché in realtà Poi alla fine Dal punto di vista De blockbuster Cioè i titoli Che vendono veramente tanto Ha ragione Sony Spiego Ma dal punto di vista Del grande pubblico Alla fine Il grande pubblico Eh oh God of War Voglio Horizon Voglio The Last of Us Basta Voglio più un cazzo E poi FIFA Fine Questo è il grande pubblico Il grande pubblico Si gioca a queste cose Fine Si alo che schifo Al Si Gers of War Che schifo Cioè ragazzi Il grande pubblico Parliamo soprattutto in Italia Ma in generale Pubblico occidentale Ragiona così Quindi in realtà Dal punto di vista Del marketing Di quello che funziona Alla fine Alla fine purtroppo Ha ragione Sony con la sua politica Ma ha ragione Fino a quanto Ha ragione Sì Ma sembra anche Tanto una multinazionale Di quelle spietate Cosa che invece A ricordi logica Chi i sordi che ha Dovrebbe essere Microsoft Capite? Perché Sony Vuole La sicurezza Vuole investire In quello che funziona E dal punto di vista Prettamente commerciale Non è sbagliato Ma stiamo parlando Della stessa Sony Che molto più di Microsoft Adesso Vuole investire Su live service Figa Me la sarei aspettata Da Microsoft Una cosa del genere Invece la fa Sony Si è comprata Bungie Per fare 12 live service E PlayStation London Studio Che prima ha fatto Pure The Getaway Tutte queste cose qua Single player Adesso gli sta facendo Fare un live service Ambientato in una Londra fantasy Ma che cazzo Sta succedendo? Perché sono diventati Americani Più americani Loro Di Microsoft Microsoft Poi fa L'americanazza Quando ti va A comprare Activision Quello sì Eccolo sì